Vai avanti con coraggio, noi siamo con te, uno slogan che mi piace tantissimo, un caro saluto da Mark Perna, un saluto ovviamente a tutte le clienti e i clienti di Allianz, a tutti gli agenti di Allianz e a tante persone che lavorano ovviamente con loro e a tutti i consulenti finanziari di Allianz Bank. Allora siamo di nuovo qui con un nuovo appuntamento del nostro business forum, ancora in versione digitale ma ci manca poco, ritorneremo presto, si dice a una nuova normalità, insomma comunque ritorneremo presto insieme, in presenza e questo è l'aspetto che ci piace di più e l'argomento di oggi, lo sapete, è quello delle piccole e medie imprese ma come al solito il nostro forum ha l'obiettivo di andare a indagare le realtà che ci riguardano tutti i giorni con un punto di di vista un po' particolare, intanto un punto di vista di persone molto esperte come al solito il nostro parterre è di primissimo piano, andremo a indagare gli aspetti economici evidentemente, quelli finanziari ma anche quelli sociali perché insomma ovviamente la situazione che ci riguarda tutti i giorni ha tante tante declinazioni. L'argomento delle piccole e medie imprese evidentemente parla dell'Italia, l'Italia è un paese dove il tessuto economico finanziario passa prevalentemente per questo tipo di realtà, realtà piccole, si dice forse a volte troppo piccole ma sicuramente questo grado di dimensione ha concesso a molte aziende di sopravvivere a un'onda d'urto importante, si dice resilienza, però resilienza non è solo la capacità di resistere e di ritornare alla posizione principale, è una proprietà evidentemente dei metalli ma noi la vogliamo vedere come opportunità perché se abbiamo resistito a questa onda d'urto abbiamo probabilmente la possibilità di cogliere quello che arriverà, un futuro atteso e un futuro su cui molte aziende stanno puntando. Allora come sempre però abbiamo degli obblighi fondamentali, lo sapete, il primo è fondamentale, numero uno, vale a dire l'iscrizione al nostro canale. Allianz Expedience su YouTube in tanti l'avete fatto, qualcuno forse non l'ha ancora fatto, magari per pigrizia e invece quella campanella è da cliccare perché in questo modo voi avrete sempre la possibilità di essere in contatto con noi e con tutte le tante manifestazioni di presenza che Allianz riserva ovviamente a tutti, anche alle persone evidentemente che ci andranno a seguire dopo questa diretta. E poi perché lo dico sempre, questo non è un monologo anche se sto parlando già da troppo tempo, è fondamentale che partecipiate anche voi e ci fa molto piacere, quindi lo potete fare in qualsiasi momento come, anche qua alzando la mano virtuale, facendoci sapere a chi volete indirizzare le vostre domande e ovviamente se volete dirci anche come vi chiamate e da dove venite, noi ovviamente siamo felici. Ma siccome il nostro argomento del Business Forum ha tante latitudini, quale miglior esperienza che potete vedere un video che vi dice tutto. Guardiamolo insieme. Allianz Experience. Cinque format diversi, cinque temi, due appuntamenti a settimana. Attualità finanziaria, economia, economia e società, cultura, start-up, ecologia, governance e megatrend. Allianz ha creato per i clienti un palinsesto di eventi digitali che permettano di capire il contesto in cui viviamo, per leggere il presente e progettare il futuro. Grazie al contributo di imprenditori, economisti, docenti universitari, esperti di settore, opinion leader, rappresentanti del mondo della cultura e giornalisti. Basta un click per alzare il sipario sul racconto di quello che ci accade intorno. L'obiettivo è riflettere, analizzare, approfondire, programmare strategie e accorciare le distanze. Insieme. In ogni momento puoi intervenire con la tua domanda e con il tuo punto di vista. Al termine di ogni evento puoi diventare tu il protagonista del format, in un faccia a faccia con gli ospiti che saranno a disposizione per un dialogo riservato e su misura. Allianz Experience Cliccata la campanella mi tengo d'occhio, attenzione. Allora l'abbiamo detto, parterre di primissimo piano ve li presento, anzi si presenteranno da soli perché le biografie di questi personaggi sono lunghe e complesse. Loro ha loro l'onere dell'esercizio di sintesi. La professoressa Marina Purcinelli. Allora cosa possiamo dire di te? Cosa fai e cosa vedi dal tuo osservatorio? Ma sono, buonasera a tutti e grazie per avermi invitato stasera, grazie Mark in particolare. Mi occupo di piccole e medie imprese, sia come come docente universitaria, sia come formatrice, quindi mi capita di avere in aula gli studenti ai quali poi devo fare gli esami e mi capita di avere in aula invece imprenditori, in particolare imprenditori di piccole e medie imprese. Alla Bocconi? Sì, in Bocconi, diciamo perché mica non è un'università qualsiasi. La famosa Bocconi di Milano. Giuliana, Casa Massima, tu sei Allianz nel sangue praticamente, però con una prospettiva un po' particolare, quale? Sì, buonasera a tutti, sono Giuliana Casamassima, attualmente responsabile dell'area tecnica di corporate riassicurazione. Ho, come dici, Allianz nel sangue, nel senso che sono sempre stata nel settore assicurativo, nella parte tecnica e attualmente mi occupo proprio della definizione delle offerte, della sottoscrizione dei rischi per il mondo delle aziende. Trigante. Poi capiremo bene cosa vuol dire calcolare il rischio delle piccole e medie imprese, ma diamo la parola al nostro ospite remoto. È presente con lo spirito, è anche con lo spirito giusto, di questo forum, che è uno forum simpatico, diciamolo onestamente. Allora, Alessio Pagni, dici tutto di te, non iniziare dalla scuola alimentare però, grazie. No, 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 oggi parto direttamente dal ruolo che ricopro ormai da sette anni, sono senior sales executive in Franklin Templeton, quindi società di investimenti. Insomma, sono veramente curioso anch'io di sentire che cosa ci racconteranno gli ospiti che sono veramente di altissimo livello e ho pronto il quaderno con gli appunti, davvero. Sì, ma qualcosa ci dovrai dire anche tu, non ti esimere da questo ruolo. Viviana Falcone, anche tu personaggio Allianz, anche tu con una signora esperienza. Allora, dice qualcosa di te e cosa vedi ovviamente anche dalla tua latitudine? Assolutamente, Mark, intanto grazie e bentrovato a tutti. Io sono regional account manager di Allianz Global Investors, società di gestione del risparmio e oramai mi occupo praticamente di sales da 15 anni circa, quindi il mio motto è quello di andare a fare formazione e informazione nel più possibile con i consulenti finanziari appunto e gli agenti di casa Allianz. Una cosa che ho imparato in questi forum è che le prendono veramente all'uscita da scuola, perché poi dicono a 15 anni sono tutti giovanissimi. Benissimo. Allora, Marina, iniziamo da te, perché stiamo entrando nel vivo di questo forum e la prima domanda giustamente è come hanno resistito le piccole e medie imprese in questo periodo difficile, perché qualcuna ce l'ha fatta, anzi qualcuna è andata anche molto bene. Perché? Quali? Insomma, chi sono quelle state brave? Diciamo così. Va bene, va bene, rispondo volentieri a questa domanda. Innanzitutto, Mark, con una precisazione. Si dice spesso che l'Italia è il paese delle piccole imprese, direi anche qualcosa di più. Abbiamo un modo un po' strano di fare economia in Italia, lo famo strano, come diceva Verdone in uno dei suoi film più divertenti. Nel senso che noi abbiamo proprio un modello di economia particolare, originale, modello perché vale per la stragrande maggioranza delle imprese, originale perché ce l'abbiamo solo noi, mi sento di dire, al mondo. Ed è un modello che si compone di quattro caratteristiche, non solo di una, quella più citata, cioè la piccola dimensione media delle imprese, ma anche la proprietà familiare, una guida imprenditoriale e una fortissima vocazione manifatturiera. Queste quattro caratteristiche insieme ci rendono unici al mondo. Allora, come dire, qui il mondo di quelli che fanno il mio mestiere si divide un po' in due, no? Quelli che sono un po' dei detrattori di questo modello, che dicono che è un incidente di percorso, che è un vizio da correggere, che piccolo e brutto, familiare e nepotistico, imprenditoriale sa un po' di shurpadrun e manifatturiero sa di vecchia economia, di old economy, e che invece come me è convinto che questo sia quello che abbiamo e che se perdiamo questo modello purtroppo non ci resta molto altro. E quindi innanzitutto riconosciamo queste caratteristiche come un elemento differenziante, come un elemento peculiare, che non sono da denigrare, anzi da valorizzare. Se siamo un paese tra quelli del G20, se siamo comunque una delle potenze economiche non ai primissimi posti ma insomma nella classifica di punta a livello mondiale di economia, lo siamo per le aziende fatte così, non per le grandi imprese managerializzate di servizi e di grande dimensione, no? Allora, ci piacciamo così ma poi capiremo che qualcosa in più probabilmente dovremmo fare, Giuliana, però per esempio tra le prime cose che dobbiamo cercare di capire è che possiamo prevedere il futuro in un qualche modo, ma sapere che puntualmente accadranno delle cose è molto complicato. Questo è un po' il vostro mestiere, cioè quello degli assicuratori. Cosa dovrebbero fare le piccole e medie imprese, ma diciamo tutti onestamente, per far sì che il futuro che ci attende non sia sempre del tutto imprevedibile? Ma è una bella domanda. Sicuramente il mondo delle piccole e medie imprese non si contraddistingue ancora, purtroppo in Italia, per una penetrazione della gestione dei rischi, delle coperture assicurative più evoluta rispetto anche ad altri paesi europei, nel senso che Germania, Inghilterra... I soliti peraltro. I soliti, i soliti noti. Sicuramente dei passi avanti sono stati fatti nel tempo e negli ultimi anni, però la penetrazione delle coperture assicurative sul mondo delle PMI è ancora molto bassa, ed in particolare è ancora molto orientata sulle coperture di rischi tradizionali, la responsabilità civile, l'incendio, quindi le polizze che ha copertura proprio dei rischi più tradizionali. Siamo ancora molto indietro, come penetrazione, nella cultura e quindi nella copertura di rischi un po' più complessi, ma assolutamente importanti, come per esempio la business interruption. Noi abbiamo la business interruption e la copertura assicurativa che copre l'azienda dal rischio di perdite economiche derivanti dall'interruzione delle attività. Ecco, questa copertura che si intuisce, si capisce essere assolutamente importante per la continuità di impresa, per salvaguardare la propria impresa, e in realtà ha una penetrazione bassissima nel nostro paese, in particolare sulle piccole e medie imprese. Ovviamente sulle aziende più grandi il quadro è un po' diverso, nel senso che c'è una cultura ed una quindi penetrazione delle coperture assicurative decisamente diversa, molto più alta e molto più allineata ai paesi. Lo spiegheremo bene nel corso di questa serata, di questo forum. Alessio, passo la palla a te perché diciamo che tu hai un punto di vista un po' particolare. Intanto l'orizzonte geografico si sposta ad ovest rispetto all'Italia, parliamo di Stati Uniti, esistono, e questo sottolineiamo, le small cap, diciamo come si dice in gergo, ma le piccole e medie imprese esistono anche negli Stati Uniti. Come hanno reagito a questo periodo di pandemia e come vedi il mercato se ci sono già qualche interessante segnale di ripresa? Diciamo che la pandemia ha accelerato i cosiddetti trend disrupti, quelli che hanno cambiato il nostro modo di vivere e questo ha influito parecchio sul mercato americano in alcuni settori, in particolare pensiamo alla tecnologia, alle biotecnologie e all'e-commerce ovviamente. Di questo però hanno beneficiato soprattutto le società large cap e parlo dei primi mesi del 2020 e quindi dei primi mesi dopo lo scoppio della pandemia. Le small cap hanno una costruzione o meglio hanno delle caratteristiche ben definite quindi hanno un livello di debito che normalmente in proporzione è più alto rispetto ai dati della loro liquidità e dei ricavi e quindi hanno bisogno veramente di un contesto sano di benessere dell'economia per potersi sviluppare e soprattutto di un'economia interna perché sono legati alla domanda domestica. Ecco perché all'inizio dell'anno quindi hanno faticato nel 2020 e poi piano piano più i dati economici si sono rafforzati più queste società sono state in grado di superare questa fase difficile e oggi stanno veramente correndo alla velocità doppia rispetto alle large cap. Diciamo che poi anche quelle che saranno le iniziative del congresso, della nuova amministrazione potranno dare un'ulteriore spinta a questo mercato. Pensiamo soltanto alle iniziative per la tecnologia, rete 5G, le energie rinnovabili, le nuove infrastrutture. Ci aspettiamo che questi stimoli così mirati possano davvero essere un beneficio soprattutto per le small cap, ancora più delle large cap perché pensiamo soltanto agli incentivi fiscali mirati che dovrebbero comprendere anche il credito d'imposta per l'acquisto dell'auto o della casa che sono due mercati fondamentali per l'economia americana. Insomma, c'è un buon percorso, sono partite bene e ad oggi è difficile prevedere un contesto di recessione e un contesto di Federal Reserve quindi più chiusa che sarebbe l'abbinamento che comporterebbe una situazione critica per le small cap ma in questo momento veramente noi non vediamo, non pensiamo sia probabile questo binomio. E noi prendiamo il rimbarso di questa positività che arriva anche da oltreoceano. Viviana, stava dicendo giustamente Alessio che in un qualche modo c'è stato un effetto Biden. Allora ti chiedo, ma c'è stato, vedete, anche un effetto Draghi? Assolutamente sì Mark, anche nel nostro contesto economico, quindi parliamo di Italia vediamo come le realtà piccole e medie di cui appunto stiamo parlando inizino a sostenere quella che è la loro crescita proprio in seguito a una ripresa dovuta a questa campagna vaccinale che continua ad andare avanti una ripresa del ciclo economico che sicuramente si rafforzerà nel corso dei prossimi mesi ci auguriamo con l'arrivo delle sovvenzioni di cui tanto si sta parlando nell'ultimo appunto periodo e possiamo sicuramente dire che per quanto hanno sofferto è inutile nascondersi durante l'ultimo anno molte si sono dovute anche reinventare perché se pensiamo ai modelli di business magari pre-crisi quindi fino al 2019 vediamo come tante piccole e medie imprese hanno dovuto aprirsi a nuovi strumenti per esempio di gestione strategica del proprio business parlo per esempio dell'uso dell'e-commerce che prima era magari un po' più diciamo secondario rispetto a diciamo la produzione e la consegna diretta in loco o presso le proprie sedi piuttosto che non so ora si tende a in un certo qual modo delocalizzare le aziende invece ci siamo resi conto con questa fase pandemica che è importante essere presenti nei luoghi quindi si produrre in diversi stati io penso a quelle aziende che non sono presenti solo in Italia ad esempio ma anche in Europa ma produrre per il mercato interno quindi cercando di azzerare il più possibile quelli che possono essere dei costi per esempio dovuti ai trasporti il blocco dei trasporti che ha bloccato anche gran parte dell'economia nell'ultimo anno quindi sì assolutamente segnali positivi arrivano noi ci prendiamo tutti questi segnali positivi perché forse uno dei segnali positivi più importanti lo chiedo a Marina è il fatto che diverse aziende hanno fatto tesoro di questa esperienza non proprio positiva cosa sono riusciti a capitalizzare e l'abbiamo anche capito e sentito da tutti i nostri interlocutori insomma c'è stata anche un'accelerazione quindi erano in luce questi progressi però adesso c'è un vero salto di paradigma o almeno speriamo certo Marco allora tra l'altro ne approfitto per rispondere anche un po' meglio alla domanda che mi hai fatto prima nel senso che io sto dalla parte del modello originale di sviluppo italiano cioè delle aziende che hanno queste quattro caratteristiche non lo ritengo un vizio da correggere anzi un punto di partenza dopodiché però punto a capo le piccole imprese devono essere poi ben gestite anche per essere dei buoni clienti Allianz devono essere imprese forti non importa che siano piccole, familiari, imprenditoriali, manifatturieri l'importante è che siano imprese forti nella pandemia le aziende che stanno dando il meglio che stanno crescendo veramente a doppia cifra nonostante tutto anche in settori non necessariamente favoriti dalla pandemia non sto parlando di imprese impegnate nel farmaceutico per capirci o nel tempo libero sono aziende che hanno le caratteristiche dell'impresa forte così come proprio la persona abbiamo visto nella pandemia purtroppo le persone che hanno pagato di più erano persone anziane con qualche patologia seria le persone in buona salute hanno attraversato un no meglio mediamente parlando questo periodo così difficile allora quali sono le caratteristiche delle piccole imprese forti Mark ne cito due poi magari approfondiamo con un altro giro di domande la prima sono imprese che hanno proprio a livello strategico hanno fatto propria l'idea di piccola dimensione a livello strategico sembra quasi una contraddizione ma come no? la piccola è debole no la piccola che è piccola a livello strategico cioè che ha puntato tantissimo su qualità servizio e innovazione riesce ad affrontare questa crisi meglio della grande vi cito due casi proprio un flash ci interessano recente a me piace molto andare a visitare le aziende passo molto del mio tempo oltre che in aula nelle aziende negli stabilimenti ho fatto un giro di recente in aziende che fanno parte di un settore veramente old fashion le tintorie un settore che in Italia è stato spazzato via già negli anni 2000 dai processi di delocalizzazione quindi ne sono rimaste veramente poche ne ho visitate in particolare due una molto grande che ha basato la sua strategia sulla grande dimensione pur non essendo la Fiat intendo dire però ha basato la sua strategia sui volumi sui chilometri e chilometri di tessuto da tingere sull'economia di scala era considerata in quel settore un gigante di ferro aveva resistito alla delocalizzazione e quindi era forte l'altra è invece una piccolissima impresa nata una decina di anni fa che vive di piccolissimi lotti pochi metri di tessuto tinto per gli stilisti e per gli uffici stili delle maison del lusso internazionali più importanti del mondo vive di risposte veloci di prove ed errori sembra quasi la fucina di un alchimimista chi ha più chance chi ha sentito meno preoccupato in tempi di covid chi ha sentito più speranzoso avere un futuro davanti enorme da cavalcare quello piccolo il laboratorio dell'alchimista piuttosto che il gigante di ferro che è costretto a imparare a danzare in questo periodo e fa ovviamente fatica il piccolo che non è solo piccolo dal punto di vista della dimensione ma è piccolo dal punto di vista della strategia cioè riesce a rispondere rapidamente riesce a dare servizio riesce a fare innovazione riesce a stare dietro alle follie delle richieste degli stilisti di tutto il mondo ha davanti una strada spianata dice no io il futuro lo vedo rosio lo vedo assolutamente positivo l'altro il colosso di ferro è molto preoccupato e questi sono segnali importanti Giuliana torniamo sul fatto che però quando si interrompe il business da qualche parte piccola o grande che sia l'impresa a maggior ragione è molto grande ma lì sono protetti ecco quando si scala e si scende un pochettino più in basso si ferma tutto quindi come si può dare una risposta che non spaventi come si può pensare che un asset del business delle aziende può essere l'assicurazione forme di assicurazione dedicate a questa modalità io credo che la pandemia abbia dato un grande insegnamento sotto questo punto di vista in quanto dicevo prima quindi la bassa propensione ad assicurarsi per rischi speciali in particolare specialistici in particolare da parte delle piccole e medie imprese beh la pandemia ha fatto venire fuori un'esigenza molto importante che è quella del rischio del cyber risk se ne è parlato tanto magari in contesti in aziende più grandi molto poco prima della pandemia nelle PMI perché si pensava che il modello di business delle PMI fosse meno esposto rispetto al modello di business magari di una grande azienda che già vende e-commerce che ha una gestione del business più complessa bene la pandemia ci ha insegnato una cosa importante il cambiamento della modalità di vita lo smart working lavorare da casa eccetera ha messo ha portato alla luce il fatto che c'è un rischio importante che le piccole e medie imprese in particolare hanno corso e stanno correndo in questo periodo ed è proprio la protezione dei propri asset dove asset in questo momento in questo contesto mi riferisco agli asset tecnologici lo smart working ha reso molto vulnerabile l'ultima parte della catena del lavoro e dell'assetto informatico e cioè il computer del dipendente che lavorando da casa ha esposto l'azienda a rischi sicuramente superiori rispetto a quelli che l'azienda correva quando eravamo tutti in ufficio e lavoravamo con i pc dell'azienda con le reti dell'azienda quindi in un contesto che era sicuramente più protetto infatti ci sono una serie di pubblicazioni di studi che dimostrano proprio questo che ci sono stati per le piccole e medie imprese in particolare un numero elevatissimo molto più elevato rispetto al passato di attacchi fatti proprio sugli end point cioè i pc dei lavoratori è un dato che è venuto è emerso con grande forza in questo periodo della pandemia gli attacchi informatici sono aumentati esponenzialmente a tutti i livelli ma ovviamente sono andati in modo subdolo e intelligente gli hacker a colpire quelle persone quelle entità quei contesti più facilmente vulnerabili e il calcolo della vulnerabilità è tra l'altro un aspetto non banale ma ci torniamo do la parola ad Alessio perché stavamo parlando di aziende virtuose piccole e medie aziende virtuose dal tuo osservatorio sul mercato americano hai visto qualcosa che può essere magari anche interessante per noi come stimolo come riferimento come elementi di benchmark bello questo termine elementi di benchmark guarda i nostri gestori hanno usato un termine che mi piace molto e che un po' rifletta anche quello che diceva prima la professoressa nel senso che la pandemia ha avuto un effetto darwiniano così l'hanno definito quindi la capacità di adattarsi all'evoluzione del sistema quindi per fronteggiare la pandemia sono diventati più efficienti e efficaci nella loro esecuzione molti di queste aziende quindi devo dire che sono stati identificati in realtà nel mondo delle small cap due tipologie di aziende che meglio si sono adattate e meglio si sono comportate le prime sono quelle che hanno potenziato o migliorato la loro tecnologia esistente ma che soprattutto hanno svolto un servizio anche di supporto e aiuto per quelle aziende che dovevano innovarsi o automatizzarsi diciamo questo il secondo aspetto è ancora più interessante devo dire forse il più intrigante perché quello che è successo a livello di catena di approvvigionamento l'avremmo sentito tutti l'avremmo letto tutti c'è stato un problema a un certo punto di approvvigionamento e forniture di molte aziende a livello globale e questo ha portato soprattutto nei mesi caldi del 2020 ha portato ad una realtà completamente diversa perché le aziende hanno dovuto riesaminare hanno dovuto migrare e investire verso altre realtà c'è stato proprio uno spostamento che è definito nei nostri gestori tettonico delle catene di approvvigionamento dalla parte globale alla componente locale e proprio in questo passaggio per esempio una delle società americane che maggiormente ha colpito i nostri gestori è stata la Selgan Holdings che è una società che si occupa di imballaggio industriale di beni di consumo e questa ha visto esplodere nella seconda parte dell'anno e qui torniamo un po' anche al concetto del commerce ha visto esplodere i suoi volumi in termini di vendita di prodotti finali destinati a negozi sia di alimentari che a farmacie quindi questo è abbastanza singolare l'altra invece società si ricollega al primo punto che avevo spiegato prima è la Manhattan Associate è una società che lavora proprio in un servizio di nicchia che è quello riservato ai software di gestione e quindi permette alle società di gestire in maniera efficace la loro logistica questi diciamo sono i due esempi virtuosi ma soprattutto i due settori dove meglio si sono affermate le small cap e soprattutto questo è un punto secondo me importante perché avremo due fasi dicono i nostri gestori la prima fase la parte delle aziende più interessanti oggi sono sul B2B cioè business verso il business adesso quelle che hanno più difficoltà sono quelle rivolte del consumatore finale che probabilmente con la fine diciamo speriamo della pandemia e con un rilancio dell'economia anche dei consumi potrà essere maggiormente sviluppata e quindi nei prossimi trimestri probabilmente vedremo anche il B2C cioè il business verso il cliente finale allora tanti stimoli abbiamo anche un po' iniziano ad arrivare un po' di domande per il nostro per il nostro parterre ovviamente allora io ve ne do subito conto per esempio Riccardo da Torino ci chiede piccolo e anche fenomeno di veloce a questo punto questo paradigma consente anche di poter aggredire più facilmente il mercato di prossimità ma io te lo traduco anche dal punto di vista finanziario al mercato finanziario piace un'azienda tecnologica evoluta veloce dinamica attenta alla realtà al contesto e soprattutto alla qualità guarda Mark assolutamente anzi grazie per la domanda perché è assolutamente pertinente nel senso che noi come gestori quindi società di gestione del risparmio Allianz Global Investors l'attenzione che poniamo nell'analisi delle società che poi andiamo a selezionare da inserire all'interno dei portafogli e la chiave vincente di quelli che sono gli investimenti di fatto quello che abbiamo visto nel corso dell'ultimo decennio è uno sprint sicuramente delle mid small cap nel momento di ripresa economica rispetto alle large cap se andiamo a vedere ad esempio gli indici i principali indici di mercato quindi il Fuzi Italia Mid Small Cap o il Fuzi Italia Star vediamo che questi ultimi hanno sofferto sicuramente di più l'anno scorso rispetto alle large cap ma hanno recuperato in maniera molto importante e quando noi andiamo a selezionare una società da inserire all'interno del portafoglio considerate che lo screening tra l'altro è lunghissimo quindi andiamo a parlare direttamente con l'imprenditore o col consiglio di amministrazione non leggiamo soltanto i bilanci noi ci facciamo davvero una chiacchierata un po' a tutto tondo con l'imprenditore vogliamo capire di che tipo di business stiamo parlando vogliamo capire che tipo di proiezioni ha vogliamo capire diciamo il tipo di innovazione che vuole anche creare l'imprenditore nel corso del prossimo futuro che tipo di settore stiamo parlando e di che tipo di prodotti quindi davvero è un'analisi accurata questo ci porta a che cosa questo ci porta a credere realmente poi alla fine nell'azienda piccola o di media dimensione di cui stiamo parlando su cui investiamo ma come investitore principale come se l'azienda fosse nostra di fatto noi non siamo trader per natura noi siamo investitori di medio e lungo periodo quindi noi crediamo nei progetti delle aziende sposiamo quelle aziende e le portiamo all'interno dei nostri portafogli li accompagniamo diciamo così quasi come soci all'interno dei nostri portafogli e questo è un po' il motto anche dell'investimento azionario che Allianz Global Investors fa da sempre allora cari imprenditori se passate il vaglio di Viviana siete a cavallo ve lo dico quindi ci fa piacere poi facci sapere chi sono questi imprenditori illuminati ma Marina c'è un messaggio bellissimo da Venanzio provincia di Rovigo che dice io i miei dipendenti li conosco tutti per nome se non sapessi dove abitano noi non saremmo riusciti a vincere la sfida della pandemia un messaggio bellissimo che ci dice anche una cosa importante che provincia non vuol dire periferia ma sì certo Mark fa un po' il paio con quello che dicevo prima di nuovo cerchiamo di riconoscere la nostra particolarità l'Italia non è necessariamente meglio o peggio di altri stati è diversa e ha una particolarità anche nella sua provincia la provincia italiana dove tra l'altro sono nella stragrande maggioranza dei casi situate proprio le piccole e medie imprese forti quelle dove poi vale la pena investire in un'ottica di lungo periodo come diceva bene Viviana sono aziende di provincia e la nostra provincia non è periferia anzi ha una ricchezza economica culturale sociale di capitale sociale enorme che altri stati iniziano a invidiarci perché in altri stati sono costretti a insegnarlo all'università cosa è il capitale sociale noi per fortuna a Rovigo nelle parole di questo imprenditore ce l'abbiamo nelle parole di un imprenditore che imposta la sua gestione del personale come rapporto diretto con le persone conoscendole nome per nome provincia non è periferia anzi esattamente il contrario smettiamola anche con questo con questo luogo comune cerchiamo di riconoscere le nostre caratteristiche e la nostra originalità anche in questo aspetto se volete più della localizzazione poi nulla in contrario a Milano questa sera siamo a Milano siamo all'interno di un contesto ovviamente di grande impresa finanziarizzata managerializzata ma è interessantissimo il binomio però è interessantissimo che la provincia e l'imprenditore di Rovigo con i piedi ben piantati a Rovigo che conosce nome per nome i suoi operai poi abbia le antenne in avanti e possa essere cittadino del mondo e possa venire a Milano in fiera possa venire a Milano a fare formazione possa venire a Milano a confrontarsi con i signori di Allianz però mi raccomando non perdiamo le origini non perdiamo l'identità non perdiamo questo legame importantissimo col territorio se no non siamo più nulla allora l'imprenditore Venanzio noi diciamo che ci dovete invitare tutti e quattro a farci dello spritz da voi assolutamente perché insomma le tradizioni sono importanti e le difendiamo giusto? però detto questo attenzione c'è un aspetto fondamentale secondo me non banale che quando si vede l'assicuratore c'è sempre il problema di dire ok adesso questa persona io la devo pagare e poi comunque insomma mi porta sempre a una dimensione ipotetica di scenario che magari non gradisco come possiamo scardinare intanto questa idea ma soprattutto come possiamo far convincere che ci sta seguendo che l'assicuratore è un partner del business delle aziende l'assicuratore è un partner oggi più che mai è un partner quando noi ci approcciamo con i nostri clienti in particolare con le piccole e medie imprese che probabilmente hanno più bisogno di essere supportate nell'analisi dei rischi nell'analisi delle loro esigenze assicurative sicuramente ci poniamo in un'ottica di partnership perché il punto importante qual è cercare di creare all'interno dell'azienda consapevolezza dei rischi che l'azienda sta correndo questo è il primo passaggio importante e in questo noi come assicuratori quando ci imponiamo di fronte all'azienda per valutare insieme i rischi il primo passaggio il primo punto la prima finalità è questa creare consapevolezza stiamo parlando dei vari interventi le aziende che ce l'hanno fatta le aziende che ce la possono fare per me le aziende che ce la possono fare e che ce la fanno sono le aziende che prima di tutto acquisiscono e hanno consapevolezza dei rischi che corrono delle esigenze delle loro esigenze e quali possono essere quindi una volta che si è consapevoli delle proprie debolezze quali possono essere le misure da mettere in campo per poter mitigare i rischi e per poter quindi creare quei prerequisiti importanti per la continuità di impresa per uno sviluppo sostenibile dell'azienda stessa la consapevolezza e il supporto che la compagnia di assicurazione può dare in questo senso in questa direzione secondo me è importantissimo dopo aver fatto questo aver studiato insieme i rischi e la mitigazione degli stessi il passaggio il trasferimento del rischio residuo diventa soltanto l'ultimo passaggio di questo processo che è un processo torno a dire di partnership e di lavorare insieme per creare quei presupposti necessari anche nella gestione dei rischi necessari all'azienda per creare proprio un substrato importante necessario per poter poi pensare allo sviluppo e all'investimento importantissimo in questo senso per esempio ritornando al discorso del cyber risk è entrare nell'ottica che quando faccio un investimento per un'infrastruttura informatica per un'implementazione informatica devo pensare accanto ad investire proporzionalmente qualcosa per rendere sicura quell'implementazione e quell'infrastruttura questo per esempio è un passaggio logico importante che crea cultura della gestione dei rischi ripeto in quel processo di consapevolezza e minificazione dei rischi stessi che è assolutamente istruzioni istruzioni all'uso ne stiamo dando veramente parecchi allora qui il Triveneto si sta facendo sentire molto forte Alessio c'è una domanda per te da Vanessa da Venezia ecco senza gondoletta però insomma ti chiede questa cosa importante adesso c'è questo aspetto positivo c'è un rimbalzo evidentemente dell'economia internazionale mondiale ovviamente sta trainando sta correndo forte anche gli Stati Uniti e ci chiede se i progetti finanziari di recovery dell'amministrazione Biden possono ulteriormente accelerare e lei ci chiede anche quanto questa ripresa e soprattutto se questi meccanismi di recovery possono diventare strutturali anche negli Stati Uniti ma allora dire che risultati potranno dare è un po' difficile nel senso che sicuramente tutto quello che stanno mettendo in piedi le nuove iniziative del congresso quello che dicevamo fondate sulla rete 5G sull'energia rinnovabile e sulle infrastrutture sono tutti i punti di partenza che devono essere ancora messi a terra questo è il punto di partenza quindi sicuramente il fatto che ci sarà una ci potrà essere un aumento della spesa del governo federale insieme a una federal riserva molto accomodante sono due elementi che ancora una volta ribadisco disegnano il contesto migliore per le aziende in generale ma particolarmente per le small cap che creano quel contesto economico ottimale per muoversi se saranno diciamo persistenti sicuramente i temi che stanno per diciamo che la politica fiscale vuole mettere in piedi quindi io mi riferisco soprattutto a quello della rete 5G alle energie rinnovabili e a quello delle infrastrutture sono tematiche che assolutamente hanno in ottica sempre come dicevamo prima di lungo periodo hanno davvero garantiscono almeno dei progetti che avranno dai 20 ai 30 anni di sviluppo pensiamo per esempio alle energie rinnovabili l'America pensa di arrivare alle emissioni a zero entro il 2050 la Cina entro il 2060 la Cina che fino a ottobre del 2020 non era assolutamente legata a queste dinamiche sono delle queste politiche fiscali che ripeto ancora dovranno essere messe a terra e bisognerà vedere poi come verranno hanno però tutte quelle caratteristiche che servono per garantire una crescita nel lungo periodo e danno sicuramente un orientamento ben definito allora io devo girare una domanda interessante che arriva anche dal pubblico per te new normal è un termine che il nostro ascoltatore dice no non si firma però forse sono d'accordo con lui non gli piace tanto preferisce evoluzione della normalità che vuol dire che ogni giorno noi ci adattiamo ecco la capacità di adattarsi alla contingenza non è forte perché siamo stati in pandemia dovrebbe continuare a diventare come dire un elemento distintivo delle aziende anche della vostra quando si pensa agli investimenti è così? assolutamente e guarda Mark l'innovazione è fondamentale la pandemia ha soltanto accelerato un processo che era già in atto già in corso e devo dire che quelle aziende che sono riuscite a innovare sono rimaste non dico a galla ma hanno vinto hanno vinto e ora mi ricollego seguendo due temi il primo era quello della sostenibilità che citava prima il Seis nell'intervento precedente e il secondo mi collega al Veneto visto che gli interventi di oggi le domande di oggi ci sono arrivate da un pubblico veneto mi viene in mente una società che è riuscita a fare innovazione è riuscita a diciamo sfondare dal punto di vista della sostenibilità perché ha fatto della sostenibilità la propria bandiera e sto parlando di Zignago Vetro che è una azienda veneta appunto che nasce negli anni 50 è un'azienda a nostro avviso molto solida che nel corso degli anni si è affermata come leader sul mercato non soltanto italiano nella produzione di contenitori di vetro destinati a due tipi di business il primo è quello del food beverage quindi diciamo bevande e alimenti il secondo è quello della cosmetica e della profumeria ecco Zignago nel corso del tempo cosa ha fatto? oltre a non utilizzare più soltanto materia prima per produrre il vetro ha acquisito una società che è stata utilizzata per reciclare il vetro e produrre del nuovo materiale vi faccio l'esempio di questa società perché ha vinto dal punto di vista della sostenibilità cercando di ridurre le emissioni di CO2 sprecando meno energia dovuta alla fusione dei materiali che evidentemente già derivanti dal riciclo esistevano e quindi non erano in un'altra tipologia di forma ha vinto dal punto di vista della competitività anche sul mercato abbassando quelli che sono i costi di produzione stiamo parlando di una società che produce 300 miliardi di contenitori all'anno a 2600 dipendenti quindi una società che è cresciuta nel corso del tempo e stiamo parlando comunque di una mid small cap non stiamo parlando di una grandissima azienda che produce per brand tra l'altro molto famosi come ad esempio Bulgari quindi profumi di Bulgari piuttosto che gli smalti della L'Oreal ha una commissione sui vasetti delle creme della L'Oreal piuttosto che sul food and beverage ad esempio sulla Campari le bottigliette della Campari sono prodotte da questa società ecco perché è importante mantenere la propria identità però cercare di essere innovativi migliorando i processi di produzione migliorando i costi e cercando di essere quanto più sostenibili possibili questo sicuramente è un insegnamento che le piccole e medie imprese ci hanno regalato nell'ultimo anno e ci continueranno stiamo proprio capendo anche con casi reali che questo è il grande asset che ha l'Italia imprenditori magari un po' all'antica però innamorati del loro mestiere romanticamente tenaci e capaci di guardare anche al futuro abbiamo un po' di domande Marina anche per te adesso la leggo volentieri mi diverte questa possibilità di dialogare col pubblico Federico da Novara ci dice che in effetti è preoccupato per gli attacchi informatici e ci dice come ci possiamo difendere qui c'è un tema sotterraneo che è passato lungo tutte queste risposte c'è un tema importante di cultura e formazione perché se non si percepiscono i rischi se non si investe in nuove tecnologie che però devono essere poi calate nel contesto aziendale se non si fa la formazione delle persone che insieme devono crescere con l'azienda c'è qualcosa che non funziona quindi una delle risposte non è tutta ma una delle risposte è la formazione certo Marche e anche da questo punto di vista spero davvero di non passare per una ingenua ottimista ma anche da questo punto di vista questo periodo diciamo di pandemia e mi auguro di post pandemia perché insomma mi sembra di vedere una certa reattività ormai in giro per l'Italia in termini di formazione ha rappresentato un periodo di rinascimento davvero di nuovo le imprese più avanti ecco non non quelle agonizzanti che erano già agonizzanti pre-covid mi raccomando o quelle che io chiamo avventure personali più che imprese cioè aziende nate in modo assolutamente improvvisato che non avevano spazio prima sul mercato e che il covid ha segnato per sempre ma le imprese forti le piccole imprese forti hanno capito molto rapidamente che questo era un periodo ideale per andare in aula per andare a scuola per confrontarsi per mettersi un po' in discussione anche grazie a queste alle modalità come quella di stasera che stiamo sperimentando per cui l'imprenditore di Rovigo o di Venezia può seguirci tranquillamente da casa è un periodo davvero di grandissima espansione della formazione a distanza ma non solo siamo tornati in aula purché però poi non li si prenda in giro in queste aule di formazione cioè purché poi in queste aule non li si guardi come brutti sporchi e cattivi come appunto incidenti di percorso come soggetti che vanno corretti sempre a 360 gradi riconosciamoli anche in aula di formazione riconosciamoli come clienti di una grande compagnia assicurazione anzitutto per la loro positività anzitutto diciamo loro siete la parte migliore del paese poi punto a capo poi avete bisogno dei nostri servizi assicurativi poi avete bisogno di una formazione manageriale che vi manca però partiamo da riconoscimento della loro positività e anche allora in termini di formazione apprezzeranno vi seguiranno hanno voglia di mettersi in discussione le imprese più forti si confrontano sistematicamente con chi è più avanti sia in aula di formazione sia quando scelgono dei partner assicurativi e partner insomma in generale adesso dico assicurativi perché assolutamente allora Giuliano ovviamente tante domande stanno arrivando anche per te da Lecco che giustamente ci chiedono intanto vabbè ovviamente per rispondere a come si riesce a gestire un attacco informatico intanto ci si protegge proprio a monte con una bella assicurazione ma poi ma poi perché scegliere Allianz a questo punto fondamentale io ritorno un attimo sul tema della formazione la formazione è fondamentale all'interno dell'azienda in particolare proprio per la gestione di alcuni rischi cyber la cosa più importante che è mancata e quella che ha fatto più danni alle piccole medie imprese o alle imprese anche più grandi è stata proprio la mancanza di formazione capillare da parte dei dipendenti dei lavoratori all'interno delle aziende su quelli che sono su quelli che sono erano i rischi su quelli che sono erano i rischi informatici gli attacchi come posso riconoscere io che sono a casa sto lavorando da casa con il mio pc sto facendo smart working come faccio a riconoscere che c'è un attacco in atto sul mio pc questo è stato il problema che ha creato maggiori danni in questo periodo di pandemia proprio perché si è arrivati impreparati culturalmente impreparati ad affrontare tematiche di questo genere quindi il tema della formazione è fondamentale uno dei problemi le statistiche ci dicono che uno dei principali problemi è stato quello del phishing il phishing è un attacco che arriva sul pc del dipendente una mail con indirizzi non chiari quindi una situazione di pericolo che arriva sotto forma di una roba normalissima che può essere una mail ma che non viene riconosciuta quindi la formazione la pandemia ci ha insegnato che in particolare per alcune situazioni e per alcuni rischi la formazione è un elemento imprescindibile tanto quanto l'investimento in strumenti in tool in implementazioni informatiche quindi vanno di pari passo quando parlavo di consapevolezza la consapevolezza va in due direzioni l'investimento in senso stretto in tecnologie in tool in sistemi di protezione ma anche soprattutto la formazione la formazione è un elemento possiamo vedere l'assicuratore a questo punto anche come un consulente assolutamente secondo me nella gestione di alcuni rischi il cyber i rischi ambientali i player i principali player del mondo assicurativo devono possono giocare un ruolo importante nel creare un sistema la possibilità proprio di creare cultura su alcuni argomenti questo è un ruolo importante che le compagnie di assicurazione devono portarsi a casa e devono investire in questo il momento in cui si incontra l'azienda e quindi il potenziale cliente deve avvenire in un momento per cui il contesto deve essere chiaro per l'azienda stessa per la piccola media impresa in generale insomma poi stiamo parlando di imprese di aziende però c'è anche tutto il mondo del retail del cliente persona fisica della persona fisica che anche da un punto di vista di cyber eccetera ovviamente sappiamo essere anche lui molto esposto per cui è un macrosistema bisogna creare un macrosistema e il ruolo delle compagnie di assicurazione e dei player del settore assicurativo è anche quello di dare il proprio contributo nel creare appunto consapevolezza e cultura molto vero molto giusto domanda rapidissima perché poi chiudo con due consigli per gli acquisti no sto scherzando con i nostri consulenti finanziari Marina pensando al futuro delle nostre aziende dobbiamo anche pensare a un nuovo welfare beh sì insomma se riuscissimo a migliorare anche da questo punto di vista male non faremo ma più a livello di sistema devo dire che anche su questo tema le piccole imprese non sono per nulla indietro io vedo azioni di welfare azioni di si direbbe all'anglosassone corporate social responsibility incredibili nelle piccole imprese proprio per questa vicinanza che hanno nei confronti dei collaboratori delle loro famiglie del territorio a cui appartengono e questo si salda anche al tema della sostenibilità nel senso che proprio perché gli imprenditori vivono in piccoli comuni nella provincia italiana i loro collaboratori vengono provengono da quei comuni c'è l'interesse a tutelarli in termini di famiglia c'è l'interesse anche a tutelare l'ambiente proprio il territorio in cui vivono quindi anche da questo punto di vista sono molto più avanti di quanto normalmente non le si giudichi e anche da questo punto di vista dobbiamo far venire un po' meno certi luoghi comuni perché ci sono esempi noi oggi abbiamo combattuto i luoghi comuni abbiamo scoperto ancora una volta se ce ne fosse stato bisogno che l'Italia è un paese tosto e siamo più avanti di quello che si può immaginare però proprio questo spirito positivo lo voglio consolidare con due domande telegrafiche anzi con la stessa domanda ma due risposte telegrafiche con Alessio Alessio il futuro che ci attende come lo vedi ce la facciamo ce la stiamo facendo ma sì diciamo che la nostra visione è assolutamente costruttiva perché prima di tutto consideriamo il forte rimbalzo ciclico nella ripresa e nella crescita globale l'ultimo dato positivo per rimanere diciamo nel campo dei messaggi positivi è quello del Fondo Monetario Internazionale di metà aprile quando ha detto che le previsioni di crescita mondiale per il 2021 e il 2022 sono a rialzo questo insomma già è un dato importante ancora una volta perché vuol dire che la crescita supporterà i consumi la domanda questo potrà generare inflazione che è il tema che oggi sta spaventando i mercati però attenzione perché per noi è una inflazione positiva cioè che arriva i prezzi salgono perché migliorano l'occupazione migliorano i consumi quindi non è una inflazione che arriva da prezzi e basta e quindi questo sicuramente sono due elementi che per noi sono assolutamente positivi per il futuro insomma un po' come il colesterolo buono è un po' così Viviana allora possiamo essere positivi cioè questa crescita oltre ad esserci sarà anche robusta assolutamente Mark noi siamo convinti consapevoli intanto di aver superato o essere al termine di una dura prova e siamo sicuramente più forti più consapevoli più preparati probabilmente anche più veloci mi permetto di dire perché se magari diciamo in passato anche l'innovazione aveva o passava attraverso determinati cicli ad oggi ci siamo resi conto che bisogna essere veloci ad adattarsi ad innovarsi ad essere propositivi noi italiani siamo a mio avviso leader permettimi un po' di patriottismo te lo permetto te lo permetto leader nell'essere appunto creativi innovativi e sempre ben preparati questo a mio avviso non ci manca quindi avanti e allora al nord est con lo spritz in Sicilia col cannolo noi abbiamo tutto quello che ci serve per guardare oggettivamente con ottimismo al futuro io vi ringrazio molto di essere stati ancora con noi questa sera col nostro business forum ma un business forum che come sempre si ripresenterà a voi alla vostra attenzione con il prossimo episodio l'argomento non ve lo svelo quindi dovete scacciare la campanella e iscrivervi al nostro canale sono molto felice che abbiamo avuto ancora una volta un parterre eccezionale io mi congedo con un saluto caloroso e con la speranza di ritrovarvi presto alle nostre latitudine calorosamente italiane ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti l'argomento l'argomento